Un'avventura, un'avventura, non può essere soltanto una primavera, questo amore non è una stella. Allora, buongiorno, bentornati all'aria che tira, sono diversi, non si amano, spesso e volentieri hanno bisogno del mediatore, una volta uno picchia e l'altro risponde, la volta dopo si scambiano i ruoli, ma ormai è chiaro, tra Di Maio e Salvini non sarà un'avventura. No, non sarà un'avventura. Ieri la parte del poliziotto cattivo l'ha fatta certamente Matteo Salvini, sentiamolo Un paese con meno burocrazia, con più opere pubbliche e su questo la penso in maniera diversa rispetto ai miei alleati di governo c'è bisogno di andare avanti, non di tornare indietro c'è bisogno di più strade, autostrade, ferrovie, porche, aeroporti c'è bisogno di viaggiare, c'è bisogno di collegarsi con il resto del mondo solo poi no, non si va da nessuna parte, oppure dire dei sì No, non sarà un'attività Queste le parole di Salvini, forse dettate dalle esigenze della campagna elettorale per i regionali in Basilicata d'altra parte c'è sempre una campagna elettorale alle porte in Italia, lo sapete bene ma Di Maio non raccoglie e con la pazienza tipica di chissà che poi verrà il suo turno si drammatizza, sentiamolo un momento ieri sera da Giovanni Floris Io ho visto pure che ha detto vado fino in fondo, ho la testa dura però quando fa così, per me è folclore, noi dobbiamo lavorare lei lo chiama, lei lo chiama al telefono ma noi ci sentiamo continuamente perché stiamo nello stesso governo e dobbiamo risolvere i problemi agli italiani Allora questa è la politica ma oggi perdonateci usciamo per un attimo dalla politica italiana perché quella che poteva rivelarsi solo un'avventura si è trasformata in una storia vera Guardate la prima pagina della Gazzetta dello Sport Sì, parlo della Juve di Cristiano Ronaldo che non sarà certo maestro di buone maniere questo gestaccio è veramente orribile ma è un campione straordinario magari avessimo Ronaldo nella politica italiana e forse perché no anche un allenatore intelligente e coraggioso come Allegri Sì, sigla Ennamorando Y sempre di più Order! Order! Andrea La gente chiara 6 Facciamo 47 Grazie a tutti.